Radio Radio, buongiorno a tutti di nuovo, Fabio buongiorno, corriamo e salutiamo l'avvocato Massimo Lualdi che è collegato con noi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno Massimo. Fondatore e direttore anche di newslinet.it che ricordo molto bene anche per recenti pubblicazioni che poi raccontavano anche la nostra esperienza Fabio. Racconto un'esperienza di tutti. Allora perché abbiamo voluto Massimo Lualdi in onda con noi? Perché fra le tante emergenze di questo periodo forse le più gravi come abbiamo detto prima sono quelle relative all'informazione, alla comunicazione. C'è un attacco trasversale alla comunicazione, prima ne abbiamo parlato con Claudio Messora, con Diego Fusaro, perché addirittura questo patto scellerato di alcuni esaltati pseudoscienziati vorrebbe far passare un pensiero unico e dire a tutto il resto della comunicazione e zittitevi. Questa è una cosa gravissima, cioè che va non solo contro i dettami costituzionali ma va addirittura contro proprio il principio fondamentale di un paese democratico, di un popolo, delle conquiste che sono state realizzate nel corso dei millenni dal popolo civile, cioè il pluralismo, il confronto delle idee, la vera scienza che è il confronto, che è ricerca, che è discutere. La discussione si fa tramite i mezzi di comunicazione che oggi sono di grande massa, sono molti e sono soprattutto le sentinelle sempre della politica, le sentinelle di chi ci governa, le sentinelle di un pluralismo e di una veduta a 360 gradi della vita e non soltanto il pensiero unico come vorrebbe essere. È chiaro che oggi gli attacchi sono tantissimi, chi vuole continuare ad insistere su un pensiero unico si compra tutti i media, o fa in modo tale che questi abbiano maggiore presenza nei confronti del pubblico, perché non è finita, non è che noi con la seconda guerra mondiale abbiamo sterminato tutti i dominatori o chi vuole esserlo. Per cui noi dobbiamo continuare ad essere vigili e dobbiamo continuare soprattutto a tenerci ai mezzi di comunicazione. La gente che ci ascolta deve sapere che la conservazione del pluralismo è la sua libertà, è la libertà di tutti. Finita questa, finirà anche un altro tipo di libertà. Ed è per questo motivo che noi ci preoccupiamo in questo periodo, in questi giorni, della tenuta dei mezzi di comunicazione, che soffrono tantissimo, come soffrono tutti. Ora, è chiaro che tutti ci troviamo in una situazione di grande sofferenza, l'Italia è bloccata, c'è stata questa scelta politica, se sarà giusto o sbagliato lo vedremo nel prossimo futuro, però tant'è c'è stato un obbligo imperiale di fermarci tutti. Quindi i fatturati sono scesi, il commercio si è fermato, l'economia è morta. Ora, quindi, a parte chi ha invece uno stipendio, chi viene garantito perché ci sono vitalizi, pensioni, stipendi o addirittura prebende che sono state date da alcuni media nel passato, anche recentemente, vivono ovviamente di un certo tipo di rendita pubblica, ci sono i media che invece questa rendita pubblica non ce l'hanno, come noi e come tutti i mezzi realmente indipendenti e liberi. Quindi i mezzi realmente indipendenti e liberi, soprattutto le emittenti locali, quelle del territorio, non hanno alcun tipo di protezione da tutto questo che sta accadendo, perché sono aziende che devono continuare a rimanere accese, continuare a rimanere vive, ma non possono accedere a nessuna delle iniziative che è stata posta in essere dal governo, anche se con tutte le critiche e le polemiche che ci sono in giro. Non solo, ma alcuno, qualcuno, vorrebbe addirittura che nel momento in cui si metta in pratica un'iniziativa di sostegno, i parametri da identificare sono quelli sostanzialmente di chi nel passato aveva fatto richieste di danaro, eccetera, quindi ignorando la stragrande maggioranza dei mezzi di comunicazione, sostanzialmente per dare danaro, sempre ai soliti amici degli amici, che poi sono sostanzialmente alle emittenti di proprietà di grandi gruppi o di multinazionali, addirittura con sedi fuori, all'estero, paradisi fiscali, noi abbiamo un elenco completo, è una cosa ridicola. E allora cosa accade? Che per garantire tutto questo noi abbiamo fatto una proposta che è stata recepita dall'Avvocato Lualdi, dal Consul Media, quindi l'Avvocato Lualdi rappresenta la Consul Media, oltre che il Newslinet, che è un quotidiano online di informazione del nostro settore della comunicazione, sicuramente il più autorevole del settore, l'Avvocato Lualdi rappresenta con la Consul Media anche una società di consulenza per tutte le emittenti italiane, radio-televisive, quindi nel mondo dei media è un'autorità importante, sicuramente lavora nel settore da oltre 30 anni, da quasi 40 anni come noi, quindi ne sa molto Massimo, conosce bene il settore, è consulente di grandi gruppi, anche consulente di tribunali, quindi voglio dire, stiamo parlando di un gruppo che conosce bene il settore e che ha recepito una nostra proposta che io magari farei dire a Massimo perché se no non gli do la parola e invece vorrei che lo dicesse lui, perché noi abbiamo una proposta da fare al governo per poter permettere alle emittenti libere nel territorio di continuare a lavorare e di continuare a fare quel servizio irrinunciabile, come peraltro ci dicono anche gli addetti ai lavori, e quindi parliamo di medici, ma anche gli stessi politici, che è quello della comunicazione, la comunicazione del territorio, la comunicazione ai cittadini che oggi stanno oltretutto in casa, che non hanno la possibilità di lavorare e che magari tramite le emittenti e radio televisive, soprattutto quelle locali più vicine al territorio, hanno un momento di confronto, un momento di svago, di libertà e di confronto su questi temi. Massimo. Allora, ti ringrazio Fabio, innanzitutto tengo a precisare che con Fabio io ho un rapporto trentennale di stima, di amicizia, oltre che di collaborazione professionale, quello che hai detto è assolutamente perfetto, non posso aggiungere niente, vado direttamente alla proposta che io l'ho definita l'uovo di Colombo. Allora, dobbiamo fare una brevissima precisazione, che peraltro hai già richiamato tu, l'unica proposta sostanziale che è stata fatta dal governo per aiutare le emittenti radio televisive è quella di potenziare la provvista economica dello Stato a favore delle emittenti radio televisive basata su un DPR del 2017, il 146, che riconosce dei contributi alle emittenti che hanno tutta una serie di requisiti e che in base a un punteggio in funzione di una creditoria che viene definita, possono attingere a questi contributi. Allora cosa si è detto al governo? Si è detto che per aiutare le emittenti in occasione di questa emergenza Covid-19 potenziamo i contributi del 2019 integrandoli con 80 milioni di euro. se non che questo tipo di soluzione andrebbe a premiare quelli che hanno presentato la domanda per l'annualità di riferimento, penalizzando tutti quelli che per qualsiasi motivo hanno deciso di non farla come per esempio Radio Radio che non riconosce la legittimità di alcuni parametri di riferimento e quindi in sostanza andrebbe a fotografare il passato per premiare il presente è una cosa che è assolutamente illogica perché Radio Radio per esempio non ha presentato la domanda per il 2019 ma ha tutte le ragioni, tutti i titoli per chiedere le misure di sostegno in questo momento perché è in questo momento che ne ha bisogno non ne aveva bisogno evidentemente l'anno scorso comunque ha scelto di non effettuare la domanda ma adesso vuole e pretende di avere l'identico sostegno che viene riservato agli altri beh diciamolo Massimo perché non è stato fatto questo Radio Radio non ha mai voluto quel danaro pubblico perché ritenevamo noi abbiamo sempre ritenuto che quel danaro non fosse legittimo darlo in quel modo ovvero perché se i parametri per dare danaro all'emittenza a parte che erano quattro spicci laddove poi i costi per ottenerlo solo per pratiche burocratiche erano più elevati perché tanto poi il grande andava sempre a finire agli amici degli amici con un sistema che è un sistema secondo noi perverso e alla fine infatti se andiamo a vedere le graduatorie questo lo dico io ovviamente è il mio parere non lo dice Massimo lo dico io e sono andati a premiare quegli emittenti che non ne hanno bisogno in realtà che sono di proprietà di importanti gruppi come la stessa Mediaset perché i nomi si possono fare perché le graduatorie sono pubbliche che non ha certamente bisogno del contributo dello Stato si sono ricomprati tutto radio tv hanno fatto di tutto e adesso prendono pure i soldi pubblici perché il meccanismo che ti consente di accedere è un meccanismo che premia un certo tipo di struttura addirittura è previsto che tu ti debba iscrivere ad una società che ti fa le indagini di ascolto ma la società è privata non è una società che è sotto controllo dell'agicom cioè dell'autorità garante per le comunicazioni o del ministero no, è una società privata, è un gruppo privato che sono poi alla fine sempre loro però che se andiamo a vedere il gruppo dirigente poi alla fine sono sempre i titolari degli emittenti più importanti che quindi fa le indagini di ascolto per chi vi vuole iscriversi noi non ci siamo mai voluti iscrivere a queste indagini fatte in questo modo perché non le riconosciamo non ne riconosciamo il metodo non ne riconosciamo neanche la classe dirigente che dovrebbe essere diversa dovrebbe essere sotto il controllo dell'autorità garante quindi di una istituzione pubblica e non certamente degli stessi privati è il controllore che controlla il controllato cioè il controllato che controlla il controllato hai capito? quindi noi abbiamo deciso di non far parte di questa logica e quindi siccome quella norma peraltro prevedeva anche questo che io ritengo peraltro abbia anche dei risvolti di carattere giuridico di non legittimità ma dei quali noi non ci siamo mai voluti interessare intanto perché parlavamo di una distribuzione di piccole somme di denaro ma comunque sia certo meritevoli sempre di un'attenzione quando qualcosa è legittimo secondo noi sempre secondo noi però adesso però voler legare l'aiuto in presenza di questa emergenza a chi ha fatto quella domanda escludendo tutti gli altri che per motivi etici come noi non l'abbiamo fatto e quindi non si siamo andati a cercare di prendere soldi pubblici illegittimamente beh a questo mi sembra una cosa di una gravità eccezionale tra l'altro notizia di un paio d'ore fa l'indagine d'ascolto terra è stata sospesa per l'emergenza Covid-19 per cui anche qui ci sarebbe da aprire tutta una discussione va bene sì va bene insomma ma questa sarà una discussione dei prossimi mesi alla gente interessa probabilmente poco sapere questo ed è per questo che noi non ne parliamo mai e ne parliamo soltanto in questa occasione perché si tratta non certamente di andare a dirimere questioni interne all'interno del mondo della comunicazione che ci pensiamo da soli a risolvercele senza coinvolgere il pubblico ma si tratta di difendere un altro bene fondamentale che è il diritto all'informazione il diritto al pluralismo e allora se lo Stato cioè se il pubblico cioè se i cittadini mettono del danaro sul tavolo per favorire i mezzi di comunicazione a continuare a vivere beh questi debbano essere tutti o quantomeno quelli che fanno un servizio di informazione come noi e come altri prima abbiamo sentito Claudio ma ce ne sono tanti altri quindi il danaro deve finire nelle tasche di chi lavora realmente nel mondo della comunicazione e non certamente così a pioggia perché poi dopo quelli che hanno l'imbuto più grande sotto prendono più soldi Massimo giusto? esatto allora dicevo che l'idea di Fabio di cui abbiamo parlato lungo ieri pomeriggio che poi dopo abbiamo pubblicato in apertura su Newsline per in quanto meritevole di grande attenzione per tutta la sua semplicità linearità ed equità è quella che parte da un presupposto molto logico allora il ragionamento è questo le emittenti come tutte le imprese teoricamente potrebbero accedere in questa fase alla cassa integrazione in realtà non possono farlo perché dovendo svolgere il proprio ruolo quello di informazione e intrattenimento hanno bisogno dei collaboratori e quindi si trovano nel paradosso di non poter accedere a questa forma di sostegno che lo Stato mette a disposizione ovvero chi vi dovesse accedere perché legalmente lo può fare dovrebbe chiudere o comunque ridurre ridurre del 70, 80, 90% la propria capacità comunicativa quindi mettere musica un computer che manda un po' di musica tutti a casa in cassa integrazione è addio e ci sentiamo forse forse a settembre ottobre novembre se riusciamo a pagare le bollette questo è il punto esatto e quindi abdicherebbero alle emittenti al loro ruolo primario di cui l'idea di Fabio che abbiamo sposato che è quella dicevo prima estremamente semplice equa lineare e paradossalmente vantaggiosa anche per lo Stato qual è questa soluzione? è quella di dire lo Stato si fa carico di pagare il 50% dei costi relativi al personale dipendente delle emittenti quindi giornalisti tecnici e di tutta la filiera produttiva che porta alla realizzazione del prodotto editoriale ora se ci pensiamo un attimo questo è veramente il luogo di Colombo perché da una parte dà la possibilità ai emittenti di respirare un po' diciamo alleviando i propri costi e compensando in parte i minori introiti pubblicitari dall'altra parte costituisce un sacrificio estremamente limitato per lo Stato rispetto alla cassa integrazione che dovrebbe coprire l'80% in questo caso invece il 50% questa soluzione sarebbe assolutamente equa perché potrebbe essere applicata a qualsiasi emittente che ha ovviamente un lavoro dipendente ma siccome le emittenti commerciali hanno comunque l'obbligo di avere almeno due dipendenti il problema non si pone cioè in sostanza si applica a tutti e quindi è come dicevo prima una forma equa cioè non diamo danaro to cure a quelli che presentano le carte impicciano fanno tutte queste cose qua burocratiche assurde all'italiana dove poi alla fine va sempre a vincere chi ha un sacco di soldi e quindi l'acqua come si dice va al mare tanto per essere popolari per essere nazional popolari ok per parlare chiaro no noi diciamo chi sta lavorando realmente è perché ha un lavoro è un dipendente qui a Radio Radio ce ne sono tantissimi noi ovviamente siamo tantissimi qui e quindi c'è un numero molto nutrito di personale dipendente sono lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato anzi qui la maggior parte anzi tutti direi quasi sono a tempo indeterminato e quindi sono lavoratori regolarmente iscritti hanno la busta paga lavorano allora noi abbiamo due possibilità o andare in cassa integrazione perché gli introiti ovviamente si sono ridotti quindi il sistema economico è saltato e quindi chiudere chiudere una parte di programmi aspettare che finisce la buriana e poi dopo tornare ma in questo caso non si renderebbe il servizio al pubblico e siccome noi potrebbe succedere a chiunque altro nel settore però lo Stato in quel caso paga l'80% al lavoratore e il lavoratore incassa l'80% e non lavora e a casa a girare i pollici noi invece diciamo cosa ma scusate noi abbiamo avuto una riduzione dateci il 50% dello stipendio dei nostri lavoratori l'altro 50% lo mettiamo noi compensando le perdite che abbiamo avuto continuiamo a rendere il servizio il lavoratore incassa il 100% del suo stipendio e continua a lavorare cosa c'è di strano Massimo ma non è più semplice una cosa del genere non servono carte non serve burocrazia i dipendenti sono iscritti all'Inps hanno la loro busta paga non c'è nulla da dover dimostrare è tutto molto più semplice non ci sono truffe non ci sono inganni è una cosa di una semplicità estrema e farebbe risparmiare allo Stato un sacco di soldi e continuare a rendere il servizio al pubblico Massimo io credo che sia una cosa Massimo lo chiama l'uovo di Colombo quindi è appunto quindi anche perché anche perché fotografa l'esistente non il passato esatto nel senso che fotografa questo momento cioè il momento in cui le persone i dipendenti sono impegnati a svolgere un ruolo che è definito di pubblica utilità cioè non stiamo andando a inventarci nulla stiamo semplicemente prendendo atto di una serie di situazioni che sono come diceva Fabio assolutamente trasparenti quindi nessuno può metterle in discussione perché non è che sto assumendo le persone in questo momento sono persone che sono già li troppate già assunte certo sono già assunte e quindi è il modo veramente più semplice di aiutare le emittenti se si vuole aiutarle certo senza andare a inventarsi soluzioni complicate discutibili contestabili ma che soprattutto fanno riferimento al passato cioè voglio dire se io prendo in riferimento le domande del 2019 del DPR 146 2017 non vado a fotografare adesso vado a fotografare una situazione che era completamente diversa magari andando ad aiutare emittenti che non hanno così bisogno come altri in questo momento perché fanno altre cose ma poi soprattutto tu fotografi una situazione di alcuni emittenti che volontariamente hanno deciso di partecipare a qualcosa ma ce ne sono altre che hanno deciso di non farlo per i loro motivi per il diritto di non farlo non c'è scritto da nessuna parte che lo dovevi fare e oggi non possono essere escluse poi ripeto c'è anche l'altro paradosso che è questo cioè qualora la politica decidesse di dare questo danaro a pioggia a qualcuno senza un titolo senza un titolo senza dietro avere ecco la reale esigenza dei dipendenti questa emittente potrebbe incassare il danaro e poi comunque mettere in cassa integrazione i propri lavoratori perché parliamoci chiaro soprattutto emittenti musicali che non hanno l'obbligo di avere come noi tanti giornalisti tanti redattori tanti fonici registi eccetera bene quella può tranquillamente continuare a mandare la sua bella musica magari con un ragazzetto che si fa anche un po' di promozione che banca gratis come si dice e quindi a quel punto risolve il problema prende i soldi mette in cassa integrazione quei pochi che ha e aspetta lì bello tranquillo che torna alla luce ecco questa è una cosa Massimo io credo sulla quale noi dobbiamo lavorare ma non non per nostro interesse per l'interesse della gente di continuare ad essere informata e per far sì che le persone che ci ascoltano sappiano che se esiste un'informazione libera e la possibilità di confutare anche le cose che non vanno la possibilità di modificare di migliorare la nostra società è perché esiste un'informazione libera noi vogliamo difendere quella libera quella degli editori puri non quella degli editori dei grandi gruppi multinazionali che non hanno alcun problema in questo senso anzi ci stanno guadagnando e che alla fine sono quelli che ci impongono il pensiero unico noi dobbiamo difendere l'informazione libera e allora ringrazio l'avvocato Massimo Lualdi la Consul Media Newsline perché fanno un lavoro di informazione nel nostro settore molto importante e anche in questo caso questa che è una battaglia da condurre per tutti perché questa è una soluzione che riguarderebbe tutti ed è trasversale bipartisan non ha un colore politico e non ha neanche un colore diciamo di queste emittenti piuttosto equa salvaguarda tutti cioè ci sono dei dipendenti che lavorano nelle emittenti lo Stato invece di caricarsi l'80% con la gasa integrazione e magari buttare da Nara a pioggia dateci una mano a pagare le persone Massimo giusto? in conclusione l'ultimo pensiero assolutamente d'accordo assolutamente d'accordo tra l'altro chiudo con una con una piccola considerazione il modello l'uovo di Colombo di Fabio potrebbe essere tranquillamente applicato all'editoria in generale nel senso che siccome è di una semplicità di una linearità incredibile si potrebbe essere utilizzato anche per aiutare l'editoria online piuttosto che l'editoria della carta stampata cioè non c'è nessuna controindicazione noi dobbiamo aiutare i lavoratori non gli editori che oggi purtroppo in Italia ce ne sono tanti impuri che hanno quindi dipendenze da multinazionali che non hanno problemi di danaro non possiamo mandare danaro a pioggia anche a costoro noi dobbiamo aiutare direttamente i lavoratori del settore e tu aiuti direttamente i lavoratori del settore dicendo ok metto io una parte del loro stipendio l'altra parte la mette l'editore che è vero ha avuto un calo di fatturato per questo lo aiuto ma non lo aiuto con il danaro a pioggia tu cur perché poi magari quello manda la gente ugualmente in casa di integrazione no io aiuto direttamente il lavoratore pagandogli una parte dello stipendio noi dobbiamo chiudere grazie all'avvocato Massimo Lualdi a presto Massimo torneremo su questo argomento Massimo nei prossimi giorni facciamo diventare virale questa proposta perché lo merita grazie Massimo buona giornata Fabio a domani a domani mattina con Fabio Durante